Più che un titolo è una dichiarazione d'amore. Si chiama We Love Loto, il cartellone di eventi in programma per la stagione 2015-2016 del Piccolo Teatro di Ferrazzano. Una stagione che sembra partire sotto l'influenza di una buona stella, quella del Ministero dei Beni Culturali, che ha deciso di conferire un importante riconoscimento a Loto, qualificandolo come impresa innovativa nell'ambito della sperimentazione del teatro. Un traguardo inseguito da tempo è ora arrivato e che rafforza quell'ideale di cultura sostenibile di cui si sente tanto parlare in Molise. Oggi la cultura, lo dicono tutti i massimi esperti, è il vero motore di sviluppo di questo paese. Bisogna soltanto capire che magari non bisogna avere una visione petrolifera rispetto all'investimento in cultura, ma anche dove c'è un investimento limitato, come può essere quello che noi abbiamo sul teatro del Loto, però poi in termini materiali, in termini di benessere complessivo sviluppano tante cose. Otto spettacoli in abbonamento, replicati in giorni e orari diversi, per cercare di coinvolgere il più ampio pubblico possibile. Sulla scena del Loto, alcune delle compagnie più innovative e prestigiose del panorama teatrale italiano. Monica Guerritore, nella doppia veste di attrice e regista, ma anche Antonio Rezza, Walter Malosti e il gradito ritorno della Rimbam Band. Fra le novità di quest'anno ci sono anche le nuove collaborazioni con altri enti regionali, la Fondazione Molise Cultura e l'Università, che rientrano nel cartellone parallelo del Loto Link Festival. Proprio con l'Unimol è in programma una tre giorni dedicata a Pasolini, tra convegni, mostre e lo spettacolo PPP che avrà come protagonista Diego Florio. Quando esistono i teatri, vuol dire che i luoghi sono belli, vuol dire che soprattutto la gente nasce con un'idea del bello, vuol dire che la gente nasce con un'idea di impresa, anche da fare. Quando c'è cultura si sviluppano imprese. Ecco, io faccio un invito a tutti gli imprenditori molisani, a tutti, di sostenere, come stanno facendo tutti gli imprenditori d'Italia, prendere l'esempio dei Dallavalle, dei tanti che assistano e finanzino la cultura. Perché è importante, perché un paese si sviluppa, e anche le loro aziende ne avranno assolutamente non solo merito, ma ne troveranno beneficio anche economico. Sono convinto di questo. Insomma, un cartellone ricco che fa, di quello che loro definiscono contro teatro, il messaggio di punta, valorizzando il talento e le collaborazioni con realtà diverse.